Franco Libero Manco, presidente dell'associazione AVA, l'associazione vegetariana vegana animalista, oggi qui in piazza per Stop ViviSection. Oggi è un giorno importantissimo per noi, finalmente si è raggiunta la cifra delle firme raccolte per proporre poi alla Commissione Europea la porcazione della ViviSessione. Quello che è straordinario in tutto questo è che si è mobilitata una massa enorme di persone in difesa degli animali, in difesa della giustizia, in difesa di una scienza libera dai condizionamenti delle grandi industrie chimico-farmaceutiche. È un processo di civiltà che va affermandosi gradualmente e che stanno portando avanti in modo particolare quelli del movimento vegetariano animalista. Io mi sento onorato a far parte di questo movimento che sta lottando contro questa barbarie che ha condannato gli animali ad un inferno inimmaginabile con la sperimentazione animale. Sono lieto a sostenere l'iniziativa alla quale hanno aderito non soltanto il movimento animalista ma tantissime persone a livello europeo. Quindi il mio applauso va a tutti coloro che ci sono dati da fare per raggiungere questo obiettivo raccogliendo più di un milione di firme nella comunità economica europea. E quindi finalmente sta emergendo questa nuova coscienza umana più responsabile più capace di condividere le sofferenze degli altri, specialmente degli animali nostri, fratellini di capire che la scienza medica deve essere al servizio dell'uomo e non delle grandi multinazionali capire che la vivisezione è un danno enorme non solo sulla coscienza, alla coscienza degli individui ma capire che è un ostacolo alla vera civiltà e soprattutto al vero progresso medico-scientifico perché quando la vivisezione assorbe ingenti risorse non solo economiche ma finanziarie ed umane per una scienza che non ha nulla di scienza o di scientifico ma che ritarda il vero progresso medico-scientifico con danni inimmaginabili sulla salute delle persone, allora credo che questo sia un dovere di tutti noi battersi in questo senso. Cioè io dico che una persona che sperimenta sugli animali non dovrebbe mai appietare la sua coscienza. Come può una persona che tortura un essere innocente, che come noi ha diritto al rispetto, alla libertà, alla vita che come noi percepisce l'angoscia del dolore e della morte, come può poi essere una persona buona e giusta anche nei confronti del suo simile? Come può un medico poi avvicinarsi con rispetto e tenerezza al letto di un paziente umano? Quindi la vivisezione è un fatto che fa vergognare l'essere umano di appartenere alla specie umana. Quindi noi chiediamo l'assoluta abrograzione da subito e cerchiamo di far capire alla popolazione, a tutte le persone che aderire a questa grande iniziativa che è un segno di civiltà, di amore, di rispetto, di valorizzazione della vita e del diverso. È un dovere morale per tutti, per una nuova società, per il trionfo dell'amore, della giustizia e della vita.